D'accordo, stacco dal procuratore a un tranquillo quartiere residenziale di periferia. Una coppia litiga. Lui esce infuriato, sale in macchina. È la stessa notte piovosa. La macchina va fuori strada, finisce in una fossa. Il corpo vola via. Ora, la polizia esamina la vettura. I freni sono stati manomessi. È omicidio. Il procuratore decide di fare il colpo. Manderà la moglie alla camera a casa. Ma il procuratore si innamora della moglie. Certo che si innamora della moglie, ma la manda lo stesso alla camera a casa. Scopre che il marito è ancora vivo. Ha simulato la sua morte. Il procuratore rompe nella prigione, si percepita nel braccio della morte, ma... Arriva troppo tardi. Hanno già sganciato le pasticche. Lei è morta. Io te l'assicuro. Piangeranno come fontane nella sala. È morta? È morta. È morta. Perché questa è la realtà. Gli innocenti muoiono.